Italia Nota e Gruppo Vi dà il benvenuto nella nostra struttura di Silvi Marina Honda Hotel Io sono Giulia e sono la receptionist dell'albergo La struttura dispone di 90 camere matrimoniali e multiple tutte dotate dei migliori comfort per accogliervi al meglio Grazie per la visione! Ci troviamo a 5 minuti dal mare La nostra spiaggia privata, la piscina in struttura, il servizio di animazione vi garantiranno un soggiorno all'insegna del divertimento e del relax La nostra spiaggia privata, la piscina in struttura, il servizio di animazione La nostra spiaggia privata, la piscina in struttura, il servizio di animazione La nostra spiaggia privata, la piscina in struttura, il servizio di animazione